Un 2023 positivo per lo sport aretino. Sul podio più alto sale la SBA che con il successo ai play-off strappa il biglietto d'ingresso per la nuova Serie B Interzona. Grande stagione per la società aretina che ha portato 5 sue squadre ai vertici dei rispettivi campionati. I successi contro Lucca all'ultimo seconda hanno fatto la differenza alla pari del lungo braccio di ferro con il Prato nelle 5 finali. Bene anche nelle serie minori la Dux Sansepolcro che ha conquistato la Serie C. Per Sansepolcro annata speciale visti i successi nel calcio con il ritorno in Serie D dopo 5 anni e nella pallavolo con la vittoria che ha significato il passaggio di categoria. Nella pallavolo festa per il club Arezzo in C che conquista i play-off mentre dalla D sale il volley Arezzo. Si conferma il Cortona mentre retrocede il volley Foiano. Nel podismo è sempre la policiano che dà il ritmo con i grandi eventi come la scalata al castello e la maratonina. Il 2024 arricchirà il calendario, la società tra l'altro ha festeggiato il mezzo secolo di attività, mentre anche il ciclismo sta superando i postumi della pandemia, recuperando corse di grande tradizione come la Coppa Mercatale. Tra i singoli bene della lunga possente velocista che corre al nord. Tra le ragazze spicca il titolo italiano di Ferri nella mountain bike giovanile di ciclocross. E non sottovalutiamo i 50 anni della polisportiva albergo, culla del ciclismo baby in Valdichiana. Donne protagoniste come Martina Bartolomei che nel tiro a volo punta una medaglia olimpica a Parigi. Cresce il taekwondo con due tricolori. In tema di centenari da non dimenticare è quello dell'ACI, la cui sezione sportiva resta un fiore all'occhiello. Nella retina i rally sono protagonisti con importanti iniziative come il Valtiberina, il Casentino e il rally Città di Arezzo, riservato alle autostoriche. La speranza resta quella di rivedere la Pieve Spino agonistica.